Con l'attività odierna della Compagnia Carabinieri di Augusta, è stata zerata una piazza di spaccio operante sia nella città di Augusta che nella frazione di Villasmundo del comune di Medilli. Gli spacciatori si rifornivano dello stupefacente nella città di Catania e lo distribuivano porta a porta, utilizzando anche le cassette della posta come luogo di scambio. Quando gli assuntori non avevano disponibilità di contanti, utilizzavano quale pegno la carta del reddito di cittadinanza.